Pronto? Oh, Mauri! Oi, Gian! Ma dove siete? Vi stiamo aspettando tutti! A casa, dove siamo? Ma come? Dove? C'è il festival, le voci di Cartunia, dai, muoviti! È vero, era oggi, porca miseria, stavo giocando alla Playstation, ora... Arrivo, chiamo gli altri e arrivo, va bene? Ok, vi aspettiamo, ciao! Ok, a dopo, ciao, 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 ciao! Porca miseria! Dai, dai ragazzi che siamo in ritardo, c'è voce di Cartunia, dobbiamo andare! Dai! Dai, Topolino, andiamo! Paperino, vieni anche tu! Sì, ma metti i pantaloni! Ah no, tu sei già così, scusate! Doraemon, dai, andiamo! Dai, andiamo! Gatto Silvestro, chiamano gli altri, su! Dai, dai, dai! Andiamo, ragazzi, andiamo! Grazie a tutti!